a una barricata, una prostata a Greta Lua e Maldi Susa, da una casa occupata a Roma con le gine di famiglie all'interno che grazie a questo lato liberano del tempo e della loro vita e sono meno scosti a legato della precarietà e della miseria, a una pierna lanciata a una barricata, a una barricata, a una barricata, a una barricata a una barricata di servizio e disse grazie a questo lato liberano che grazie a queste E' importante forse sentire in questo momento i provvedimenti così dietro in fotocaccia Non salvare nulla, quest'ultimo, 70.300 persone su 70.000 alla faccia dell'emergenza carceri Invece, con questa emergenza, sono legittimata la costruzione di nuove carceri Libertà! 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 Tutti liberi! Tutti liberi! Tutti liberi! Tutti liberi!